salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo è solo un piccolo video per comunicarvi che amazon dopo avere presentato ieri vari nuovi prodotti che arriveranno presto anche qua in italia ma attualmente disponibili solo in america tra cui ha presentato questo robot domestico chiamato astro che però attualmente anche negli stati uniti è disponibile solo su invito cioè amazon manderà degli inviti e chi li accetta lo può acquistare un robot comunque molto costoso e via dicendo comunque se ne è parlato tanto fino a ieri ma oggi c'è una notizia nuova vi ricordate lui questo drone per la sicurezza domestica il primo drone con intelligenza artificiale per la sicurezza della nostra abitazione praticamente questo drone che è stato presentato un anno fa di cui poi non si è saputo più niente però c'era questo video bellissimo in cui si vedeva il drone che decollava dalla sua base girava per casa quindi teneva controllato qualsiasi movimento ci fosse all'interno dell'abitazione poi da solo torna a ricaricarsi tutto questo in autonomia senza andare a sbattere contro niente perché comunque ha tutti dei sensori anticollisione quindi un'intelligenza artificiale totalmente indipendente adesso anche lui è disponibile negli stati uniti è sempre su invito al prezzo di 250 dollari e devo dire ragazzi che è una cosa super super figa e devo dire che è una notizia davvero fighissima perché questo drone sapete che trasmette comunque le immagini al nostro cellulare con una risoluzione a 1440p quindi lui si sente dei rumori quando noi non siamo in casa o quando siamo a letto decolla da solo gira per casa e va a controllare dove ha sentito il rumore e viene dicendo tutte queste cose appunto per la sicurezza domestica sia se siamo in casa che se non lo siamo e tutto questo ovviamente inviando immagini e notifiche al nostro smartphone sicuramente il primo drone con queste caratteristiche o meglio con queste funzionalità e adesso sapere che è disponibile anche lui però su invito infatti vedete questa pagina del amazon americano dove viene detto che questo drone è disponibile ma solo su invito però questo dovrebbe essere il primo passo per poi diventare un prodotto disponibile per tutti ovviamente lo diventerà sicuramente prima negli stati uniti poi arriverà anche probabilmente qua da noi ma davvero è un passo in avanti di un prodotto di cui non si sapeva più niente da circa un anno quindi ragazzi questo era solo un brevissimo video che ci tenevo a condividere con voi per quanto riguarda questa novità di amazon o meglio questa rinovità di amazon e questa conferma che il prodotto c'è non è stato abbandonato probabilmente è solo stato sviluppato e non vediamo l'ora ovviamente di poterlo provare perché comunque a 250 euro se il prezzo dovesse rimanere questo è un prezzo che tutto sommato abbastanza abbordabile rispetto ai mille 1500 euro del robo astro dove già lì ci vuole un investimento molto più impegnativo qua invece l'investimento è comunque importante però per un prodotto che se funziona tanta roba soprattutto per noi cambiamo i droni e non solo e anche per la nostra sicurezza quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato queste ulteriori novità riguardanti questo drone di sicurezza di amazon vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler voline fpv tantissime cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3 come offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un testo tutorial una novità come questa ciao